Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna, una scuola di balli caraibici e non solo. Proseguiamo il nostro studio della salsa portoricana applicando il giro a sinistra, sia in questo caso della donna, in una figura che si chiama vuelta a sinistra o vuelta contraria. Passo la parola a Loretta. Ok, quindi andiamo a eseguire i nostri passi di vuelta sinistra o vuelta contraria in coppia. Su una base check, quindi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, adesso la donna andrà a eseguire la sua vuelta contraria dal comando particolare che l'uomo poi ci darà. Quindi, basico, 1, 2, 3, come vedete c'è una preparazione del braccio, al tempo 5 il braccio si apre e mi fa appoggiare, lo vedete come se fosse un check, la mia mano sinistra sulla sua destra, 5, al 6 mi rispinge e al 7 mi aiuta a girare verso sinistra, al tempo 1 mi porta di nuovo a girare verso di lui, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Come avete potuto notare, al tempo 1, come mi ha fatto girare, l'uomo è venuto a prendermi e mi ha portato in un altro cross check, portandomi dall'altra parte. Quindi, la vediamo sempre da questo lato, sempre, quindi da una base check, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esecuzione, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Se avete notato la donna al tempo 1 esce con il suo braccio sinistro in alto. Questo poi vi spiegheremo più avanti, anche perché non rimaniamo col braccio giù. Eseguiamo sempre da questo lato, questa volta, la nostra vuelta sinistra, quindi 1, 2, 3, 5, 6, vuelta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Ok? Grazie e al prossimo giro. Alla prossima, ciao!